Oggi 28 aprile la Chiesa Cattolica festeggia i beati Lucio e Bonadonna, sposi. Può un avaro diventare generoso? Certamente sì. Così è capitato a Lucio, detto Lucchesio, e a sua moglie. Lucio nasce a Gaggiano, in provincia di Siena, nel 1181 circa. Partecipa alla guerra contro i Ghibellini e poi si sposa con la nobile Bonadonna di Poggi Bonsi, sempre in provincia di Siena. In questa città, dalla fiorente economia, Lucio, con la collaborazione della moglie, diventa un ricco e potente commerciante di granaglie. Intrattiene anche altre attività redditizie, come quella di cambiavalute, grazie ai tanti pellegrini che transitano da Poggi Bonsi lungo la via Francigena, per recarsi a Roma. Marito e moglie sono avarissimi e forse praticano anche l'usura. Un giorno Lucio ascolta una predica di San Francesco d'Assisi. Ne rimane colpito e lo ospita a casa sua. Il mercante si pente e desidera cambiare vita. Risarcisce chi ha immiserito, con le sue speculazioni, vende i suoi beni e regala il ricavato ai bisognosi e all'ospedale. Infine, apre le porte di casa agli ammalati. La moglie lo giudica uscito di senno e non approva la sua generosità, ma un miracolo la fa ricredere. Quando si accorge che nella madia ci sono poche pagnotte e rimprovera il marito di aver regalato tutto ai poveri, all'improvviso vede la credenza riempirsi di nuovo, di pane fragrante. Da quel momento anche Buonadonna segue il Vangelo e si mette al servizio di Dio e del prossimo. La coppia chiede a San Francesco una regola per le persone sposate che lavorano. Nasce così il terzo ordine francescano. I due sposi indossano un saio, pregano, digiunano, invocano la pace. Si ritirano in un modesto alloggio con l'orto che coltivano per darne i frutti ai poveri. Spesso Lucio va a raccogliere gli ammalati per portarli in ospedale. E accadono tanti fatti prodigiosi. Un ragazzo che si burla di Lucio nel vederlo trasportare un derelitto sulle spalle diventa muto. E dopo una preghiera del francescano riacquista la parola. In un'occasione Lucio regala quasi tutte le cipolle a un prete. Il giorno dopo le poche cipolle rimaste risultano moltiplicate. E c'è chi vede Lucio pregare sospeso da terra. La coppia muore nello stesso giorno, nel 1260 circa. Durante il funerale un'acquazione si abbatte sulla folla che rimane inespiegabilmente asciutta. Un malato di tumore, toccando le mani giunte del benefattore esanime, guarisce. Due ciechi riacquistano la vista. E un bambino caduto in un pozzo si salva, grazie alle preghiere rivolte al beato Lucio Lucchesio. Abbiamo trasmesso Ecco chi sono i beati Lucio e Buonadonna Sposi. Breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini. Santi, compagni guida per tutti i giorni.